Sono Matteo Manassero, ho 18 anni e ho il sogno di partecipare alla Ryder Cup. Il golf per me è la mia più grande passione. Ho iniziato a tre anni a giocare, non ho mai smesso di essere diventato il mio lavoro, quindi ha fatto parte della mia vita da sempre. Nel bambino dentro Matteo c'è ancora la passione di quando ho iniziato la prima volta a giocare a golf e la voglia di vincere sempre di più, di arrivare a livelli più alti possibili. C'è un po' più di esperienza perché ovviamente aver conosciuto tante persone nel mondo del golf, tanti importanti giocatori, aver giocato con loro mi ha dato grande esperienza e mi ha fatto capire molte cose. Non penso ci sia un po' sono tante tendenze. Provo a tirarlo dritto. Ho raggiunto grandi obiettivi, tutto quello che volevo raggiungere l'ho raggiunto e velocemente, quindi a 18 anni mi trovo ad aver già vinto due tornei. Avere i miei amici a casa perché comunque sono importanti, quindi posso tornare da loro e posso riflettere e pensare su quello che ho guadagnato come golfista. Ho ancora grande passione per questo sport e spero di poterla mantenere fino a quando smetterò. Tre cose che mi piacciono di me è la passione che ho per questo sport, la tenacia e la pazienza che con un po' di tempo sono riuscito a sviluppare. Tre cose che non mi piacciono di me ogni tanto è la pigrizia, l'essere fermaloso e la terza dovrei pensarci un po'. Lasciamone due, tre a due vincono gli aspetti positivi. Avere i miei amici 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 amici, l'essere fermo, l'essere fermo, l'essere fermo, il sentimento di me è la taglia, l'essere fermo. Grazie a tutti.